Ben ritrovati in diretta, sono 21.000 circa i bambini che dal 1 settembre sono scritti agli asili nido, comunali e convenzionati nel comune di Roma. Sul valore sociale, diciamo, lo definirei quasi quotidiano per l'impatto che ha sulla vita delle famiglie nel poter usufruire di queste strutture, probabilmente, soprattutto nel momento storico come questo, c'è poco da aggiungere. Sulla brutta sorpresa che invece queste 21 famiglie hanno avuto dal 1 settembre, appunto, invece sì, perché dal 2000 a oggi, per la prima volta, quest'anno si è deciso, a parte del Campidoglio e dell'Aula Giulio Cesare, di deliberare un aumento delle rette proprio per l'iscrizione al asili nido. E hanno subito un aumento, queste rette o meglio avevano, perché intanto ieri il Tar del Lazio ha accolto l'istanza, la richiesta presentata da alcuni genitori e da alcuni rappresentanti delle istituzioni per sospendere questi aumenti e vedremo poi cosa sarà deciso in futuro. Aumenti dei quali tra poco vedremo le entità, intanto do la buonasera in studio a Gianluigi De Palo, ben trovato, consigliere di minoranza in assemblea capitolina, eletto nella lista civica cittadini per Roma, ma anche vicepresidente della commissione scuola ed ex assessore alla scuola e alla famiglia nella precedente giunta, quella guidata da Alemanno. Mi permetto di dire, uno dei primi firmatari del ricorso presentato da quello che ormai tutti chiamano il popolo dei passeggini. Uno dei primi firmatari in quanto padre di uno dei bambini colpiti da questi aumenti. Cos'è il popolo dei passeggini intanto? Non è un popolo, in proprio parole sono tante persone che alla luce di questi aumenti, il problema non è l'aumento, il problema è come è stato fatto l'aumento, perché l'aumento può essere più o meno lecito dal punto di vista politico. Per me è sbagliato in un periodo di grande crisi economica, ma magari questo ne parliamo dopo. Il tema è che sono stati fatti degli aumenti una volta che le iscrizioni erano già completate, quindi le famiglie sono tornate il primo di settembre e hanno scoperto che devono pagare di più o nel caso di chi ha tre o più figli, addirittura passavano da zero a 350-200 euro al mese. Questa cosa non si fa, questa è una truffa e quindi le famiglie si sono messe in rete e hanno fatto ricorso al TAR e il TAR nella prima fase ha sospeso questo pagamento di queste tariffe. Ecco, prima di entrare nel merito anche delle cifre e del significato di questi aumenti, tra poco abbiamo anche un servizio da mostrarvi. Ieri comunque il TAR prendeva una decisione importante, almeno per il momento sospendiamo gli aumenti. Brevemente qual è il suo commento a questa decisione? La decisione che vi attendevate o ha colto di sorpresa? Ci attendevamo perché era, qualora non fosse stata questa la decisione, voleva dire che il buonsenso non era di questo paese, non era di questo mondo. È una spallata dura al sindaco, il sindaco dovrebbe chiedere scusa, lo dico con durezza, ma dovrebbe chiedere scusa a tutte quelle famiglie, ne conosco tante, che hanno rinunciato al posto nido perché c'erano stati questi aumenti. Il sindaco dovrebbe chiamarle una per uno, chiedere scusa e trovare una soluzione. Perché il TAR ha palesemente detto che quello non era giusto, che non si potevano aumentare le tariffe in questo modo e ci sono persone che hanno rinunciato al posto. Cosa vuol dire questo per una famiglia? Vuol dire che per quest'anno avranno tanti problemi perché un posto agognato come quello del nido, ricordo che ci sono circa 8 mila bambini in lista d'attesa, quindi è molto richiesto, oggi non avrà questa risposta e questo è un problema grande. 8 mila sono un terzo per capirci dei bambini che attualmente invece hanno trovato posto nelle strutture comunali e convenzionate. Quella del TAR però è soltanto, la decisione del TAR arrivata ieri è soltanto l'ultimo anello della catena, ripercorriamo le tappe di questa vicenda con Francesco Albanese. Il TAR del Lazio ha sospeso gli aumenti delle tariffe per gli asili nido di Roma disposti dall'amministrazione comunale. I giudici hanno così al momento accolto il ricorso di più di 200 genitori e le tesi del Codacons, intervenuto in giudizio per chiedere lo stop ai rincari applicati quando i genitori avevano già provveduto a discrivere i propri figli agli asili della capitale. Gli aumenti compresi tra il 7% per le fasce ISEE più basse e il 15% per i redditi più alti erano stati decisi infatti a luglio con una delibera dell'Assemblea Capitolina, mentre le iscrizioni ai nidi si erano chiuse già a fine giugno. Non accadeva da 14 anni che le tasse venissero aumentate e tra le modifiche è stata anche eliminata l'esenzione per il terzo figlio, anche se chi ha più di un bambino ha diritto ad alcuni sconti del 30% sul totale delle quote per chi ha due figli al nido, per esempio. Così sono partiti i ricorsi e le proteste, una tra tutte quella del movimento dei passeggini in Campidoglio. Dall'assessorata alla scuola avevano sottolineato che le tariffe restano comunque fra le più basse d'Italia e che ogni centesimo incassato viene reinvestito nei servizi educativi, ma intanto è arrivata la sospensione del Tribunale Amministrativo. Soddisfatto tra gli altri il Codacons che ora punta però al blocco definitivo degli aumenti tariffari. Insomma mentre parliamo magari poi continuiamo a vederle anche queste immagini del piazza del Campidoglio Gremita di passeggini perché a livello anche di colore diciamo bellissimo e simbolico è stata una bella immagine. Noi abbiamo titolato però una vittoria del popolo dei passeggini per ora perché il tar ha soltanto sospeso per il movimento degli aumenti. Una precisazione perché mi sono arrivati tanti messaggi. Il Codacons che dovrebbe tutelare gli utenti questa volta ha provato a mettere una bandierina fregando le famiglie. Il Codacons è intervenuto all'interno di un ricorso che è stato fatto da 251 famiglie e tre associazioni. Il Moige, Forum delle Associazioni Familiari del Lazio e l'Associazione Famiglia Piccola Chiesa. Quindi è l'ultimo arrivato che però ha voluto prendersi dei meriti che non sono suoi. Lo dico perché è molto triste che un'associazione di utenti faccia questo. Posto questo è una vittoria di chi? Di Davide contro Golia. È una vittoria delle famiglie che se si mettono in rete riescono a vincere contro il comune più grande d'Italia. È un piccolo tassello? Io dico no perché il Tar è entrato anche nel merito. Non ha detto solamente sospendiamo. Ma ha spiegato anche le motivazioni per le quali ci sarebbe stata questa prima sospensione. Quindi noi il 9 di gennaio andiamo ancora più ottimisti per la sospensione totale. Da adesso in poi però si apre una battaglia politica e lo dico con la consapevolezza di quello che dico perché queste persone che devono essere valorizzate, il futuro dell'Italia, chi mette al mondo un figlio non può essere penalizzato o vessato. Cioè oggi come oggi chi paga questa crisi sono le famiglie che mettono al mondo i figli. Non esiste che il sindaco Marino vuole fare cassa su queste famiglie, anche perché è aumentato tutto. Aumentare anche gli asilo nido quando sono aumentate le tariffe di tutto quanto il resto, quando è aumentato le strisce blu, quando sono aumentate il trasporto scolastico, quando sono aumentati i servizi cimiteriali, vuol dire non avere chiaro che in Italia sono nati 514 mila bambini quest'anno. Minimo storico da quando si fanno le rilevazioni. Però, diciamo, il discorso degli aumenti, il Tar si prende una bella responsabilità, nel senso che mette un paletto all'azione amministrativa giusta o sbagliata, a prescindere da come uno la pensi, all'azione amministrativa comunque di una giunta che per far fronte tutti i tagli che conosciamo, le richieste a trasferimenti minori che arrivano al governo, insomma sono problemi che lei da amministratore conosce benissimo, l'amministrazione comunque giusta o sbagliata che sia prende una decisione e i giudici la bloccano, questo è un precedente comunque. Ricordo che il problema è come è stata presa la decisione, come se io vado a fare un mutuo in banca, prendo e firmo per il 4% fisso e poi mi arriva la rata a casa del 5%, questa è una truffa che la banca fa nel confronto. Il Tare ha intervenuto su questo, sul tema degli aumenti poi mi permetto di dire, giusto fare degli aumenti qualora non aumenta il resto e dico anche giusto far pagare, perché il sindaco ha fatto delle dichiarazioni assolutamente pericolose, perché generano rabbia, giusto far pagare chi ha tante risorse, chi ha un reddito a 150 mila euro come dice lui è giusto farlo pagare. Peccato che il sottoscritto in consiglio comunale durante il bilancio aveva presentato degli emendamenti, mettendosi d'accordo con SEL e con il PD e questi emendamenti sono diventati carta straccia, questo perché? Perché non si voleva cambiare quella voce di bilancio e non si è voluto fare quello che il sottoscritto ha fatto, cioè mettersi davanti a un file Excel, fare una simulazione e vedere quanto questo impattava realmente nelle tasche di un cittadino medio, purtroppo la politica ormai sta rasentando la virtualità, o torniamo nella realtà o iniziamo a fare delle simulazioni sulla vita reale dei cittadini oppure ce la raccontiamo e poi deve subentrare un altro ente, in questo caso il TARA, a bloccare qualcosa che è astratta, la vita è reale. Le leggo, insomma, lei le conosce, insomma, a beneficio che ci si dice, leggo qualche cifra ovviamente perché le famiglie con un ISEE fino a 5.165 euro pagherebbero 36,91 euro al mese contro i 34 dell'anno scorso, in questo caso ovviamente si tratta di un momento… una famiglia con 5.165 euro di ISEE andrebbe aiutata, perché una famiglia con figli… Che anche i 20 euro in più all'anno giustamente sono… No, no, ma è l'esempio folle che fa l'assessore Cattoi, è un esempio astratto anche questo, perché in Italia una famiglia con figli con 5.165 euro di ISEE e magari i cittadini a casa e le persone a casa sanno di cosa parlo, è una famiglia che va aiutata, perché una famiglia molto probabilmente non si può permettere non solo questo aumento, ma non si può permettere nemmeno di portare il figlio dal dentista. Gli altri, invece la soglia più alta insomma, diciamo soglia comunque alta oltre 40.000 euro di ISEE per lo stesso orario, parliamo dalle 8 alle 16.30 circa, spenderebbero 350,95 euro al mese contro i 303,68 che spendevano nel 2013, poi il problema che immagino che sollevate è che nel 2015, nel 2016, a scaglioni progressivamente queste tariffe sono destinate a salire ancora. Le cifre che lei sta dicendo non contemplano chi passa da 0 euro, cioè chi aveva un'esenzione totale, a 350 euro al mese, con un aumento del 350%. Ci sono tante famiglie che sono in questa situazione? Sono in grosso modo più di 2.000, nei dati che ci sono stati forniti dall'assessorato sono più di 2.000, ma non è questo, il tema è oggi, e io pongo una questione politica seria e la pongo qui come la pongo anche in altre piazze e la pongo anche al Presidente Renzi, oggi come oggi in un paese a nascita zero possiamo andare a togliere soldi a chi mette al mondo dei figli? Questa è la domanda che ci dobbiamo porre da romani, da cittadini e chi dice hai fatto due figli, hai fatto tre figli, sono affari tuoi, non è così, non è così, perché questi bambini molto probabilmente sono quelli che pagheranno la pensione a chi sta governando in questo modo e a chi sta dicendo questa frase. Allora per quale motivo generare dei contribuenti che partiranno e lasceranno il nostro paese? Noi stiamo facendo degli investimenti seri, chi investe su un figlio fa un investimento di tempo, di energie, di risorse, che a 18 anni molto probabilmente se continuano così le cose andranno a pagare un debito di un altro paese in Francia, in Germania e noi non avremo il futuro. Posto che lei sarà d'accordo sicuramente con me, insomma, potete poi anche ragionare su un figlio in termini di risorse e di spese è quanto di più cinico. Circa 9 mila euro all'anno. E quanto di più cinico ci possa essere, nel senso che ovviamente è una nascita. Perché in altri paesi ci sono delle risorse, tutta l'Europa dà dei contributi e dà delle risorse è chi mette al mondo un figlio. In Italia noi questo non lo facciamo. Un figlio costa grossomodo 171 mila euro da 0 ai 18 anni d'età, quasi come una Ferrari si parlava. Leggiro una posizione dell'assessorato alla scuola, della Cattoglio in particolare, a Roma le tariffe rimarranno comunque tra le più basse d'Italia, anche con questi aumenti, anche nel 2016. Vero, ma abbiamo la tasi più alta d'Italia e abbiamo un costo della vita più alto di qualsiasi altra città italiana, quindi deve essere parametrato a quello che uno vive. Io ho fatto i conti della serva, io ho quattro bambini, io spendo tanto. Il consigliere comunale, magari le persone lo sanno, prende circa, a seconda se va in tutti i consigli, in tutte le commissioni, circa 1600 euro. Non sono pochi, ma io che ho quattro bambini devo fare due, tre lavori, così come me lo fanno tanti italiani, tante persone. Allora è chiaro che nella mia vita, faccio l'esempio mio, posso fare esempio di Paolo e Giulia. I 250 euro al mese in più non sono qualcosa che non può essere organizzata prima, sono qualcosa che impatta realmente. Si vogliono aumentare tariffe? Bene, facciamole utilizzando il quoziente Roma, che il sottoscritto aveva fatto qui a Roma, e facendo pagare chi realmente ha le risorse. Il sindaco fa degli esempi dove la maggior parte delle famiglie con tre o più figli prendono 1000 euro lui e 1000 euro re, quindi hanno un re di 2000 euro per famiglia. E lui fa degli esempi sui 150 mila euro. Troviamoli, troviamo queste famiglie con 150 mila euro e facciamole pagare. Io dico che uno con 150 mila euro non manda il bambino all'assimito, ma si prende una babysitter. Non fosse altro perché la babysitter è un rapporto 1 a 1. Perché secondo lei il Campidoglio ha deciso di deliberare questi aumenti, ed è questo quel punto che ha sollevato il Tar, quando i bandi di iscrizione erano già ampiamente scaduti. Quindi io iscrivo mio figlio, dal primo settembre mio figlio frequenta l'asilo nido, poi vengo a conoscenza degli aumenti deliberati dall'aula giudice cesare. Perché secondo lei l'amministrazione si è mossa così tardi? È stata imperizia, è stata una necessità impellente di reperire risorse? Due cose, anzi tre. Imperizia, non conoscenza del meccanismo, tant'è che il signore più volte dice ma noi questa cosa ne abbiamo parlato in giunta. Sì, però è il consiglio che ratifica queste cose. E la terza è la cosa più grave, il pensare che le famiglie si facciano passare tutto sopra, perché la famiglia non sciopera, la famiglia non può scioperare. Che faccio? Non porto mio figlio a scuola? Non gli do da mangiare? Che faccio? Non aiuto mia madre che ha l'Alzheimer? Come fa una famiglia a scioperare? Ecco, le famiglie con Io sto con i passeggini, con questo hashtag, che non è un movimento, è una rivoluzione culturale che noi vogliamo portare, vogliamo lanciare e non è solo a Roma, le famiglie dicono e noi riempiamo con il nostro sorriso, con la nostra gioia, con il nostro modo di fare, Piazza del Campidoglio e ti facciamo vedere che non solo facciamo ricorso al TAR, ma ti facciamo vedere che esistiamo e lo facciamo un sabato mattina, lo facciamo col sorriso di queste mamme e papà, senza rabbia, ma col sorriso. Si è detto, insomma, da sempre, quando sono state inventate le tasse, tariffe più alte, tasse più alte, uguale, servizio migliore. È quello che vi aspettate? Almeno se questi aumenti, ma il TAR poi dovesse decidere di non sospenderli in maniera definitiva, ricordiamo comunque che intanto delle quote più alte sono già state pagate dalle famiglie prima che arrivasse questa decisione del TAR, quindi in parte un maggiore introito c'è già stato, ma in generale, se questi aumenti dovessero diventare realtà, perché il TAR deciderà poi nel merito di non sospenderli in maniera definitiva, c'è fiducia da parte vostra e comunque almeno in cambio ci sarà un servizio migliore? Allora, innanzitutto le tariffe più alte, lo ripeto, sarà una partita politica che vogliamo giocarci, perché io ho promesso a tutte le famiglie che hanno fatto il ricorso e a tutte le 20 mila famiglie che stanno dietro questo ricorso e che magari non hanno fatto in tempo a farlo, ho promesso che io su questa cosa mi ci batto, perché? Perché penso che la famiglia sia la priorità di questa città e di questo paese, che fare una città a misura di famiglia, a misura di bambino, come diceva lui, non abbiamo iniziato benissimo, se andiamo proprio a fare questo. Ho fiducia? No, non ho fiducia perché penso che chi si sta occupando di questo, in questo caso l'assessore Cattoi e mi spiace, lo dico, però a domanda devo rispondere, mi spiace che non ci sia nessun altro del PD o lo stesso assessore Cattoi. Guardi, questo lo devo dirle io per correttezza, insomma noi abbiamo praticamente scorso l'elenco di tutta la commissione scuola del Campidoglio, la ricerca dei esponenti di maggioranza, insomma. No, no, lo dico solo perché mi dispiace anche a me perché è facile parlare se non c'è un contraddittorio, ma non avere problemi qualora mi invitate a fare un contraddittorio con chiunque su questo argomento, quando volete. Non ho fiducia perché? Perché mi sembra che non si conosca il tema, mi sembra che si ragioni in maniera astratta senza conoscere realmente i problemi delle famiglie. Allora io dico, questa manovra, grosso modo, secondo i dati dell'assessorato, cuba tra i 3 milioni e i 4 milioni e mezzo di euro. La mia domanda è, ma è possibile che per reperire 3 milioni barra 4 milioni e mezzo di euro bisognava andare a fare questa figuraccia con 21 mila famiglie andando a togliergli dalle tasche queste risorse? Questa è la domanda. Chi fa questo tipo di scelta, a mio vedere, non ha una visione di migliorare le cose per le famiglie, semmai ha una visione molto piccola di andare a prendere i soldi nelle tasche delle famiglie. Ci sarebbe da ragionare, non so se questo è il momento, lo faremo un'altra volta, sul sistema NIDI a Roma e lì si può ragionare, si possono trovare delle idee. Mi dica qualcosa, nel senso che appunto a fronte di tariffe più alte, normalmente in tutto, insomma se è fatto con rincario ai trasporti pubblici, potremmo fare 2 mila esempi, nel momento in cui si aumenta il prezzo si promette sempre un servizio migliore, invece cosa c'è che non funziona adesso nel sistema dei NIDI? Io faccio una riflessione, oggi un posto in un asilo nido di Roma Capitale, lo sa quanto è grossomodo? Glielo dico io, 1300 Euro bambino al mese. Civati diceva, gli 80 Euro di Renzi sono sbagliati, dobbiamo fare asili nido. Chi ragiona così? Ragiona in maniera astratta, vuol dire che non ha un figlio, come nel caso Civati, perché? Perché un padre e una madre di famiglia preferirebbero in questa fase avere qualche soldo in più, piuttosto che un posto all'asilo nido. Perché io che cosa ci faccio di un posto all'asilo nido se non ho i soldi per il dentista? Allora cosa si potrebbe fare? Si potrebbe avere fiducia nelle famiglie. Un posto a Roma, nell'asilo nido costa 1300 Euro? Abbiamo 21 bambini che ne possono usufruire? Domando e domando ai romani, alle famiglie romane, se il comune di Roma invece di darti un posto all'asilo nido ti dà 650 Euro in tasca e tu puoi andarci all'asilo nido con 650 Euro, quindi non è che ti pregude l'asilo nido. Puoi tenere tuo figlio in casa e contrattare con la tua azienda un part time, tuo papà o tua mamma per stare più con tuo figlio. Puoi prendere una babysitter, puoi stare con i nonni. Lo sapete cosa succede? Succede che raddoppiamo, invece che 21 mila famiglie diventano 40 mila le famiglie beneficiari. Ma soprattutto tu dai fiducia alle famiglie che possono scegliere l'asilo nido consapevolmente. Oggi una mamma è costretta a scegliere l'asilo nido o a rimanere in lista d'attesa? Il punto è lei sollevato degli 80 Euro mi porta a chiedere un'altra cosa perché Renzi qualche giorno fa ha annunciato il famoso bonus bebè per i neogenitori. È certo che poi se dal governo arrivano bonus e poi gli enti locali però in un modo o l'altro sono costretti a fare delle scelte penalizzanti per le famiglie, completamente sfuma il beneficio di questi bonus. Si danno i soldi a livello nazionale e dall'altro il tema del bonus è una buonissima idea, non è una cattiva idea. Il problema è che non sono gli 80 Euro il problema, il problema sono gli 0,5 miliardi, quindi mezzo miliardo di Euro, i 500 milioni di Euro sul tema famiglia. Allora la domanda che io pongo è è o non è una priorità reale? Questo è l'interrogativo. Io una proposta l'avevo fatta e la faccio, invece che dare 80 Euro alle neomamme, costa di più sicuramente, ma diamo 80 Euro a ogni figlio minore in una famiglia. In questo modo aiuti anche i lavoratori che hanno figli in famiglia, però se noi non investiamo su il fare figli, sul fare futuro, sulla demografia, ma soprattutto sul desiderio che i giovani oggi hanno, perché se tu domandi a un giovane che cosa vorresti? Un lavoro, fare una famiglia e dei figli. Cioè il 99%... Su questo penso che insomma il sondaggio sarebbe abbastanza. Ecco, e se tu non investi su questo, ma noi tutti questi sacrifici che stiamo facendo da anni, il debito che io 38enne mi porto sulle spalle e che farò di tutto per pagarlo io e per non farlo pagare i miei figli, ma per chi lo faccio se tra un po' non ci saranno più italiani, non ci saranno più bambini? I mille asili nido in mille giorni, se non pensiamo prima a mille bambini al giorno, ma che ci facciamo? Lei prima parlava anche di una progressività che aveva studiato nella sua proposta, insomma per far pagare chi ha di più, ma questo lo dicono tutti in tutti i campi. La domanda però, lei diceva, è già aumentato tutto perché aumentare anche gli asili nido, l'obiezione che si potrebbe fare è aumentato tutto, se è tutto adeguato al costo della vita e le tariffe e gli asili nido sono ferme a 14 anni fa, quindi si poteva pensare ad adeguarle. Io dico di adeguarle facendo pagare chi se lo può permettere, non dico di lasciarle invariate, il problema è che oggi non le abbiamo adeguate, oggi abbiamo fatto una cosa che la sensazione è che uno c'era 5 minuti di tempo, c'era sicuramente l'assessore diceva dai 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 dobbiamo aumentare, dobbiamo aumentare, come facciamo? Aumentiamo in questo modo, la sensazione è che sia stata fatta così, perché quando tu vai a fare l'esenzione a chi ha 3 o 4 figli e ha un ISEE di 10.000 euro, cioè ci rendiamo conto? Chi ha 3 figli a un ISEE di 10.000 euro, ma come fa? Cioè è gente che veramente guadagna 1.000 euro al mese lui e 1.000 euro al mese lei, più il mutuo, più la casa, più i tre bambini, più i libri, cioè questo è il tema che è stato fatto senza ragionarsi. Ecco, più mi viene in mente, così arriviamo anche ad un altro tema, il trasporto scolastico, perché anche quello è stato aumentato sempre in base all'ISEE, quindi progressivamente diciamo così, però anche quello è un'altra voce del capitolo, mando mio figlio a scuola, che le famiglie sono viste aumentare. E stanno chiamando tante famiglie che vogliono ripercorrere la strada che abbiamo tracciato su questa cosa del TAR e c'è possibilità anche che ci possa essere un ricorso su questo. Il problema è che ho detto più volte, io ho chiesto più volte anche di fare delle commissioni, ho chiesto più volte all'assessore scozzese, l'assessore scozzese di insistere su questo tema del rivediamo le tariffe, vediamole insieme. Io su questo sono esperto, perché? Perché l'ho fatto, perché ero stato presidente del forum delle famiglie, vengo dalla società civile, non ho un'appartenenza partitica o politica, vengo dalle ACLI, quindi mi sono messo a disposizione dicendo a me Marino non mi fa impazzire, non l'ho votato, lo dico con sincerità, tuttavia sono a totale disposizione, perché non ho schemi ideologici, per me il bene della famiglia romana, se la fa Marino sono contento a prescindere, non hanno voluto ascoltare, questa è la cosa che mi dispiace. Sono disponibile, l'ho già detto, l'ho detto su Twitter, l'ho detto più volte, l'ho detto anche alla Presidente Baglio, a lavorare insieme per migliorare questa cosa facendo delle proposte, io le ho già pronte, erano quelle che ripropongo, quelle del Consiglio, tali e quali. Chiudo su questo, perché abbiamo pochi minuti, poi un'altra domanda da farle su un altro tema d'attualità, però la partita politica a cui lei faceva riferimento materialmente adesso come si esplicherà nelle prossime settimane? Cercheremo di mantenere viva l'attenzione su questo tema, vedremo se a livello di commissione le proposte che porto io in qualità di portavoce di tutte queste famiglie vengono prese in considerazione e io porterò proprio degli schemi di simulazioni concrete. Successivamente chiederemo che nel patto, diciamo anche nel, come si chiama, nell'assestamento di bilancio del Comune di Roma ci sia questa attenzione. Molto semplicemente, questo è quello che chiederemo, qualora non venissimo ascoltati, riendremo in piazza, rifaremo sentire la nostra voce, cercheremo sempre con il sorriso e sempre propositivi di far capire che la famiglia è una risorsa e non può essere uccisa a colpi di tasse. Magari poi il 9 gennaio può essere al Tarra a costringere il Campidoglio ad un assestamento di bilancio perché quelle entrate... Però io dico che anche il prossimo anno questo problema si porrà, perché il prossimo anno il problema tecnico non c'è, ci sarà il problema politico e noi vorremmo risolvere anche quel problema politico, cioè noi vorremmo che le tariffe vengano aumentate solo per chi se lo può permettere e che non vengano prese in considerazione le famiglie così senza un ragionamento serio. In chiusura, parlato di famiglia, mi viene da chiederle qualcosa su un tema di stretta attualità perché, insomma, ha seguito meglio di me le polemiche di questi giorni, la decisione di Marino di registrare comunque i matrimoni tra persone dello stesso sesso che si erano celebrati all'estero, ecco, rientra nel concetto di famiglia anche quello, come dice Marino o secondo lei, insomma, c'è... Mi sono dato un imperativo perché ne hanno parlato troppi giornali, se i giornali avessero parlato un decimo, un decimo di questa cosa che abbiamo fatto qui a Roma sugli asili nido e se avessero parlato un decimo di queste famiglie che si sono messe in rete, di quanto hanno parlato del resto, erano solo 16 persone di fatto, molto probabilmente questo sarebbe un paese a dimensione familiare per tutti, nessuno escluso, oggi come oggi invece questo sta dimostrando che questo è un paese che discrimina i bambini e discrimina chi mette al mondo i figli e questo è qualcosa di estremamente grave perché il sindaco ha voluto fare questa cosa, ne parliamo un altro argomento un'altra volta, non mi interessa proprio entrare nel merito, io pongo l'attenzione su chi sta peggio, su chi sta male, su chi oggi non riesce ad arrivare a fine mese, su chi oggi deve decidere se mandare il figlio a nuoto, portarlo dal dentista o pagare l'asilo nido, queste sono le persone che hanno bisogno del mio aiuto e per questo io sto dedicando tutta la mia vita politica e il mio impegno e il mio servizio in questo. Ultima cosa, l'altro tema che si collega a quello degli asili nido è quello dei bambini immigrati, insomma leggendo un po' i social network anche purtroppo in alcuni casi leggendo alcuni episodi che avvengono a Roma e non solo, anche in altre parti d'Italia, di oggi per esempio la notizia di un comune del Piemonte, una mozione firmata PDSL che propone addirittura autobus separati per i Rom, tanto per fare un esempio di stretta attualità, però insomma tante famiglie italiane in questo momento magari anche spinte da un certo tipo di demagogia si sentono discriminate in rapporto agli stranieri, cioè noi italiani siamo penalizzati perché non usufruiamo di bonus che gli stranieri hanno, ora magari la realtà non è ovviamente proprio questa, però è un'emergenza comunque, è un interrogativo sociale che si sta ponendo in queste settimane. Per quanto riguarda il tema del sostegno alle famiglie, il tema dell'usufruire di strutture come quello degli asili nido, come si dovrebbe comportare secondo lei un'amministrazione nei confronti dei bambini stranieri in questo caso. In questo non vedo assolutamente motivazioni o concretizzazioni relative a una discriminazione, nel senso che effettivamente un italiano medio si sente in difficoltà perché ci sono X persone che riescono a andare avanti per una serie di punteggi che vengono fatti, questo però io dico è una guerra tra poveri, non è questo il tema, cioè qualsiasi bambino ha necessità e ha diritto ad essere tutelato, non farei questo tipo, assolutamente le discriminazioni, i pullman di un certo tipo, queste cose ringraziando Dio i bambini non le tengono minimamente in considerazione. Altro è a mio modo di vedere, vedere nelle graduatorie che c'è una discriminazione che ti spinge a separarti da tua moglie, se io e mia moglie fossimo separati avremmo degli assegni familiari in più e avremmo il posto asilo assicurato, perché con quattro bambini e con una donna separata c'è un punteggio superiore. Io dico questa è una cosa particolare di cui parlare, queste sono veramente cose strane. Storture. Sono storture, sono storture, per quale motivo io dovrei separarmi e dovrei prendere in giro lo Stato perché lo Stato non ha a cuore il fatto che io ho un impegno duraturo con mia moglie. Queste sono le storture. Sul tema dell'immigrazione, l'immigrazione è una grande risorsa, però dico anche, questo lo dico con sincerità, cerchiamo di lavorare a livello nazionale su un fisco più eco, perché se non si lavora e se andiamo a vessare chi fa figli, chi mette al mondo, senza ragionare veramente con un profilo più ampio che la prosecuzione di questa bellissima, di questa bellezza che noi portiamo avanti che è l'Italia, ha necessità pure di persone che dicano sì, metto al mondo un figlio perché metto al mondo un figlio è anche un modo per dare una bellezza, per servire il Paese. Creiamo discriminazioni, perché oggi come oggi un italiano si sente in difficoltà. Questo però non deve assolutamente giustificare razzismi in fronte di nessuno, perché questi sono da stigmatizzare, ma senza nemmeno commentare. La ringrazio, insomma torneremo ovviamente a parlarne perché la partita politica cominciava adesso, l'ha detto lei, su questo tema e quindi saremo lieti di ospitarla di nuovo in studio. Grazie. Quando volete, grazie a voi. Grazie. 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 Adesso per qualche istante.